25 anni fa, Alain Ducasse si metteva alla guida del ristorante Louis Cans dell'Hôtel de Paris. Una bella sfida per uno chef allora poco più che trentenne. Una sfida vinta con grande successo. E per celebrare i 25 anni di uno dei ristoranti tre stelle più famosi del mondo, quale modo migliore che invitare 300 stelle Michelin tutte insieme nella Sala delle Stelle. Sono stati tre giorni di celebrazioni durante i quali 240 cuochi di 25 nazioni diverse si sono incontrati e confrontati su temi comuni. Tra gli italiani i più bei nomi dell'alta gastronomia, alcuni dei quali sono passati dalle cucine del Louis Cans prima di iniziare una luminosa carriera. Quando tu metti l'accento sul meglio della materia prima, casualmente c'è sempre una I di fianco, che è sempre l'Italia. Allora noi dobbiamo essere proprio così, dobbiamo valorizzare il nostro territorio, guardare quello che siamo, valorizzare i nostri allevatori, pescatori, contadini, artigiani, perché abbiamo delle cose straordinarie. Ma glielo lasciamo un po' di leadership, come ha detto Ducasse, alla cucina francese? Io ho imparato, dopo essere stato da Marchesi sono venuto qui a Monte Carlo. Per cui...